Italia! 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 Inizia la partita con il passato. Il rigorista è Caprini. Caprini contro Schumacher, venticinquesimo del primo tempo. Caprini è fuori, fuori, fuori. Colpo di testa di Bert Ferser, riprende Oriali. E ancora Oriali a terra. Pallo di Rubenicce. Oriali, battuta la punizione. Rossi, il bambino. Alcogno. Rossi. 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 Rossi al dodicesimo del primo momento. Cirea. Bergomi. Cirea. Parbelli. Bartelli. Bartelli. Guardi. La ultima cosa di Tarbelli. Eq watching. 2-0, Tartelli è razzoppiato, Stiniche verso Müller, Briegel, va a terra Briegel, Gettine riesce a liberare, Corsi contro piede, 3-2 siamo in vantaggio, vai avanti Corsi, Traversone, Tartelli Salda di Lugia alla fine 3-0, è il trentestesimo minuto, lunga volata di Corsi e il capolavoro di Altotelli che ha triplato il portiere e ha segnato a porta vuota Briegel, che è fallo di Conti su Briegel, calcio di punizione, ha della punizione Antti Müller. Allontana Gentile, tiro di Breitner che ha corto le distanze, Breitner 3 a 1 e il trentottesimo minuto. Bergomi, Gentile ha finito, capione del mondo. Passione del mondo, passione del mondo. L'Italia ha vinto la finale, passando la Germania per 3 a 1. Inesivocabile. Ogni attunni hanno consentito ai tedeschi, scontando gli accorgiati. Consiglia a sotto. Grazie. 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 Grazie.